un momento difficile in cui della guerra si parla non più come di cosa remota ma purtroppo di cosa molto vicina. Ma il cammino che cercherò di percorrere risale molto indietro nel tempo e parte da una considerazione storiografica potrei dire e cioè le opere giunte a noi nella tradizione letteraria antica e successiva trattano essenzialmente del tema guerra. Potremmo ricordare una pagina di uno storico che io amo moltissimo ma considerato una figura modesta viveva al tempo più o meno di Cesare era nato in Sicilia si chiamava Diodoro perciò detto Diodoro Siculo il quale ha scritto una grande biblioteca storica erano 40 libri noi ne abbiamo molti di meno a un certo punto della sua opera lui dice ma in quest'anno è analistica no racconta i fatti nella progressione degli anni che si susseguono in quell'anno non ci fu nessuna guerra quindi io non ho nulla da raccontarvi. Espressione ingenua potremmo dire che ritroviamo in forme meno come dire schiette e semplici in una celebre pagina degli annali di Tacito quindi di uno storico di alquanto tempo dopo e di levatura certamente superiore a quella del bravo compilatore in lingua greca ma la frase che può sembrare un po' urtante diciamo così quasi che non esista la storia della pace ha un suo senso e strettamente connessa a quello che la documentazione giunta a noi ci rivela. Potremmo fare un salto ancora più indietro nel tempo si è parlato qualche ora fa in questo medesimo teatro dell'opera capostipite della nostra tradizione l'iliade. L'iliade è stata definita una enciclopedia tribale da uno storico studioso anglosassone di nome Havelock è una definizione pertinente secondo me opportuna dentro l'iliade c'è anche la pace non c'è soltanto questa geniale trovata dell'autore di ritagliare un periodo brevissimo di questa guerra durata dieci anni e di concentrare le vicende di cui parla essenzialmente in quei pochi giorni in cui il poema si svolge c'è anche la pace che viene raffigurata sembra un gioco intellettuale molto raffinato sullo scudo di Achille. Achille ha dato le sue armi a un amico suo strettissimo Patroco, Patroco è stato ucciso in duello e le armi sono state sottratte quindi la madre molto vigile fa fare altre armi per lui che tornerà nella battaglia in maniera travolgente e Omero si sofferma nel descrivere lo scudo e c'è un intero libro dell'iliade che descrive lo scudo su questo scudo è raccontato il mondo potremmo dire le opere della pace sono raffigurate le opere dell'agricoltura l'amministrazione della giustizia cioè tutto il contrario di quello che avviene nel poema colpo di genio di un grande artista è quello di far intravedere l'altra realtà quella della quale lui in realtà non parla perché racconta come poi faranno gli storici e anche i poeti gli oratori i filosofi cioè la guerra e quando si affronta quel tema sorge la domanda sulle cause sul perché uno storico che era nato ad Alicarnasso nella grecità asiatica poco dopo l'inizio della prima guerra persiana quindi è nato mi riferisco ad erodoto di Alicarnasso del quale abbiamo ben nove libri molto interessanti molto vari di contenuto che lui a un certo punto raccolse in una struttura unitaria una cornice potremmo dire ponendo quindi al centro dell'intera narrazione che parla di tante cose parla dell'egitto parla del della mesopotamia della scizia ma la cornice raccoglie tutta questa materia intorno a un tema centrale che occupa gli ultimi libri la guerra tra i greci e i persiani e quindi all'inizio di questa cornice scritta dopo potremmo dire a compimento dell'intera opera lui racconta ricostruisce le tradizioni intorno alle cause di questa guerra greco persiana mi fermo ancora qualche minuto su questo punto perché si tratta di un caso straordinariamente istruttivo la guerra greco persiana che ha due fasi la prima invasione nel 490 avanti cristo la seconda dieci anni dopo occupa gli libri dal sesto al nono quindi l'ultima parte sono libri molto ampi ma nella cornice iniziale che allude all'epilogo diciamo la parte terminale di quest'opera erodoto si pone la domanda perché oriente occidente grecità e mondo asiatico persiano essenzialmente sono venuti a conflitto e quindi in certo senso recupera anche l'altro grande episodio cioè la guerra durata dieci anni da parte di una coalizione di principi greci per conquistare la città microasiatica di troia o ilio che è l'argomento non soltanto dell'iliade ma poi di tanti altri poemi che non abbiamo più quindi riconnette potremmo dire il conflitto storico del quale i suoi genitori erano stati spettatori e che lui conosce per sentito dire cioè la guerra tra i greci e i persiani riconnette quell'episodio quella vicenda memorabile per il mondo greco con una guerra remota molto precedente quella appunto di una coalizione greca che attacca una città importante dell'asia cioè appunto ilio quindi crea suggerisce una sorta di lungo conflitto orientale occidentale di cui le guerre persiane sono l'ultimo episodio e dei quali del quale conflitto si domanda si pone la questione perché sia esploso come mai e qui dà spazio a tradizioni di origine persiana lui poi prudentemente dice non è mio dovere crederci e le riferisco direi che addirittura anche in altre parti dell'opera erodoto ha questa formulazione prudente mio dovere è raccontare riferire non necessariamente affermare il contenuto di verità è un po buffa la narrazione che lui pone al principio c'è tutta una storia di rapimenti di donne che determinano reazioni via via sempre più gravi episodi reciproci come dire antefatti rispetto a quella vicenda molto nota e consolidata nella tradizione del rapimento di elena moglie di menelao personaggio importante nella realtà delle monarchie micenee da cui scaturisce poi il conflitto decennale intorno alla città di troia questa spiegazione che ovviamente lascia perplessi veniva anche derisa molto tempo dopo diciamo così noi non sappiamo quando erodoto è morto probabilmente ha visto l'inizio almeno della guerra del peloponneso tra sparta e atene non abbiamo una data precisa ma vari anni dopo un comico un comico un comediografo beffardo grandissimo nella sua arte nel quale abbiamo ben 11 commedie sulle 50 e passa che aveva scritto aristofane ateniese nella commedia la prima in ordine di tempo a noi giunta databile al 425 avanti cristo a carnesi fa la parodia di quella pagina di erodoto dicendo sostenendo che la guerra del peloponneso cioè la questa lunga terribile guerra interminabile tra la coalizione capeggiata da atene e la coalizione capeggiata da sparta ha avuto inizio per dei rapimenti di donne le quali erano nell'entourage di aspasia una donna molto intelligente molto influente sul grande politico del tempo cioè su pericle e quindi pericle avrebbe provocato la guerra contro sparta per risarcire per così dire il rapimento di queste donne che facevano capo all'ambiente della sua amatissima spasia naturalmente è un racconto totalmente inventato e parodico ma parodico non tanto contro pericle del quale aristofane ha un concetto molto negativo pericle era già morto quando lui mette in scena quella commedia ma parodico rispetto a quella pagina di erodoto che cerca di suggerire prudentemente che tutto il conflitto orientale occidentale cominciato a troia continuato con le guerre persiane nasceva da questi rapimenti di personaggi femminili di alto rango naturalmente di case principesche ma in altra commedia di alcuni anni dopo intitolata pace che coincide quasi negli stessi giorni in cui effettivamente fu firmata la pace del 421 tra sparta la cosiddetta pace di niccia che sembrò essere risolutiva e invece non lo fu e in quella commedia tutta inneggiante al fatto che finalmente torna la pace aristofane da un'altra spiegazione completamente diversa della causa di questa guerra da lui odiatissima e cioè il ministro dei lavori pubblici potremmo dire usando un termine modernistico di pericle cioè il grande artista fidia autore della statua di atena progetta progettista del partenone personaggio centrale in tutta quella politica di lavori pubblici finanziati dallo stato che perile ha promosso fidia si sarebbe appropriato in maniera indebita di una parte del materiale prezioso oro e avorio con cui aveva rivestito questa grande statua di atena la dea che protegge la città e dietro quella statua c'era il tesoro della città il tesoro della lega si sarebbe appropriato quindi un suo lavorante gli avrebbe intentato processo pericle ha cercato di difendere il suo collaboratore così stretto che però è stato ugualmente noi sappiamo da altre fonti processato e condannato per offuscare gli effetti di questo processo che investiva la stessa persona di pericle periche avrebbe scatenato la guerra quindi come vedete spiegazioni molto diverse l'una dall'altra entrambe poco credibili la prima soprattutto ma anche la seconda tra l'altro abbiamo tradizioni secondo le quali poi fidia si sarebbe addirittura trasferito nel peloponneso e lì avrebbe avuto altre vicende insomma il tema perché siamo entrati in questa guerra nella questa guerra così impegnativa che secondo lo storico che l'ha raccontata e di cui fu egli stesso poi partecipe ateniese anche lui tucidide sarebbe durata addirittura 27 anni e sei mesi quindi una guerra interminabile non è del tutto convincente alcuni all'epoca non pensavano che fosse un'unica guerra durata 27 anni perché perché c'è un inizio nell'anno 431 con alti e bassi colui che l'ha provocata l'ha voluta potremmo dire cioè pericle è morto poco dopo l'inizio per un contagio pestilenziale tremendo che ha falcidiato la popolazione ateniese ma la guerra è andata avanti con i suoi successori politici più o meno seguaci del suo orientamento politico e soltanto dopo la morte del più autorevole esponente bellicista diciamo della politica ateniese cioè cleone e del suo rivale nel campo spartano cioè brasida soltanto allora si è stipulata una pace che noi conosciamo perché abbiamo il trattato in extenso riferito per intero nell'opera tucididea primo firmatario parte ateniese questo signore che si chiamava niccia è un uomo più ricco di atene aveva l'appalto delle miniere d'argento è un uomo ricchissimo è molto ostile alla politica bellicistica di pericle questa pace doveva durare 50 anni ma durò molto di meno durò pochissimi anni perché il conflitto ricominciò in un altro teatro di operazioni in sicilia con un attacco assolutamente pretestuoso di atene contro siracusa grande potenza siciliana conflitto nel quale gli alleati peloponesiaci di siracusa entrano a un certo punto in scena e quindi ricomincia un conflitto con le potenze peloponesiache che va avanti per tre anni nel frattempo sparta invade da capo l'attica e altri dieci anni di conflitto quindi i contemporanei dicevano sono tre guerre diverse una dall'altra una guerra decennale che è finita appunto con quella pace che doveva durare 50 anni la guerra in sicilia finita in disastro per atene perde una flotta enorme migliaia di uomini e poi una terza guerra micidiale chiamata deceleica perché un comune dell'attica che si chiamava decelea fu occupato stabilmente dagli spartani i quali di lì colpivano atene ma non ce l'avrebbero fatta se la grande potenza lontana ma sempre incombente cioè la persia non avesse scelto di appoggiare gli spartani addirittura consentendo loro di costruire cosa inaudita una flotta da guerra sparta era una potenza terrestre non marittima e sul mare anche grazie pare al tradimento di alcuni esponenti atenesi finalmente la guerra si conclude con la resa di atene dopo un assedio durato mesi e gli atenesi alla fine assediati da terra e da mare muoiono di fame e si arrendono ed è una resa incondizionata una resa in cui atene rinuncia al suo impero rinuncia ad avere una flotta si impegna ad essere alleata del suo nemico quindi una catastrofe politico militare tucidide è stato stratego generale con importanti compiti nel nord della costa della traccia dove lui era fra l'altro appaltatore delle miniere d'oro che atene possedeva nella costa traccia e quindi è un protagonista di questa vicenda ha deciso di raccontarla lo dice all'inizio della sua opera avendo capito subito lui dice avendo capito subito che sarebbe stata la guerra più grande più impegnativa definitiva in certo senso una resa dei conti inevitabile all'interno del conflitto di potenza nel mondo greco riflettendo su quelle vicende di cui è stato egli stesso partecipe a proda alla diagnosi in realtà si trattò di un'unica guerra e questa diagnosi lui la connette ad una riflessione che in certo senso giustifica quella diagnosi la rende logica comprensibile quale riflessione la riflessione sulle cause cioè perché a un certo punto si è arrivati a questo conflitto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti